La città accoglie le navi da crociere, a Savona è un port di costa crociere. Savona è un port di costa crociere e ogni anno sbarca circa un milione di croceristi. Per noi è un qualcosa di importante perché ogni crocerista che viene, che sbarca, anche per una manciata di ore, è un formidabile testimonial quando ritorna nella propria città, nella propria nazione. Quindi ogni volta per noi è una festa, è una festa accogliere i croceristi e nel corso degli anni abbiamo sempre offerto di più attraverso i walking tour, attraverso i percorsi turistici che sono percorsi culturali, religiosi, enogastronomici e anche sportivi. E poi Savona è una città sostenibile, la prima città europea certificata Lead for Cities e questa nave è una nave sostenibile. Per cui è un binomio meraviglioso, con costa crociere poi da parecchi anni stiamo portando avanti molti progetti come quello delle cedenze alimentari e con banco alimentare. Quindi i progetti della sostenibilità stanno andando avanti e il binomio Savona-Costa è uno splendido binomio.